Cambio al volo, al volo per un volo, esce Pier, Ignazio che è un po' più fresco, Pier ha dato tantissimo, c'è la pace sinistra, però a mia ragazzina è bravissima, è finito il volo. Vorrei approfittare di questo momento di relativa calma agonistica per ricordare che il fondatore della Nazionale Cantanti, questo miracolo, che è come ha detto quello degli oesici, che non c'è da nessun'altra parte del mondo, è solo italiano, questo miracolo lo dobbiamo a Giulio Rapetti in arte mogola, che tanti anni fa e lo ringraziamo, e con lui voglio ricordare anche Gianni Belli, è un nostro grandissimo amico che ci sta guardando in questo momento, grazie anche a Gianni. Ma che c'è, ma è successo che credo che ha fatto un fallo a Moreno, credo a qualcun altro della Nazionale Cantanti che l'ha presa bene, c'è un po' di polemica, anche Barbarossa che è molto calmo si è un po' nervosito, a volte dobbiamo anche ricordarci i motivi, oddio Ramazzotti si sta appiccicando con Barbarossa, che brutta cosa, un attimo, un attimo. Questo no, questo no, eh ragazzi. Senti, per alleggerire, per alleggerire.